Ben trovati con il forum di TV Online, il caso di Eluana Inglaro, la legge in discussione in Parlamento per vietare l'interruzione di alimentazione e idratazione così come avvenuto per Eluana, ma anche il testamento biologico. Sono i temi al centro del nostro forum, oggi ne discutiamo con Bruno Gambardella che è un docente di materie letterali ma è soprattutto uno storico militante del partito radicale in provincia di Avellino. Questa provincia, lo abbiamo detto già ieri, ha vissuto in maniera drammatica incollati al televisore le vicende di Eluana Inglaro, questo grande dramma. Ma questa provincia ha anche conosciuto la storia come ci segnala tra l'altro il nostro telespettatore di Anna Rita Giliberti che è una ragazzina da 13 anni in coma e ha conosciuto sull'altra sponda naturalmente la vicenda di Adriano Lombardi. Allora partiamo dalla sua posizione rispetto anche a questa proposta di legge. La proposta di legge che oggi partirà dall'aula del Senato è una proposta di legge pessima, nel senso che se fosse stata proposta la legge di due anni fa del centrodestra, del senatore Tommasini, probabilmente in serata domani mattina al massimo avremo una nuova legge sul testamento biologico, invece in questi due anni il dibattito che andava fatto indubbiamente, il problema della scienza, della vita, della morte, è un problema che noi non possiamo eludere. Però è stato spettacolarizzato. Io direi che la politica che si deve occupare di queste cose spesso ha trasformato in propaganda posizioni, sensibilità che andavano invece comunicate, discusse con l'opinione pubblica nella maniera meno spettacolare e meno ideologizzata possibile. Perché secondo lei questioni importanti non solo di coscienza ma anche di ordine pratico diventano oggetto di dibattito nelle famiglie e quindi anche tra la gente comune solo se si attiva questo circo mediatico? Perché questa è la civiltà della comunicazione facile, non della comunicazione approfondita probabilmente. E allora io ritengo che il conoscere per deliberare sia il fondamento della democrazia. Noi sul caso di Eruana ad esempio abbiamo conosciuto, abbiamo visto delle immagini che mostravano una ragazza 17 anni fa nel pieno della sua vitalità. Noi sappiamo che Eruana quando è morta, anche se il suo medico giustamente diceva che Eruana è morta 17 anni fa, quando è morta ufficialmente, quando è stata liberata dal suo corpo direi io, era ridotta a un corpicino che ogni due ore doveva essere mosso perché altrimenti sarebbe stato assalito dalle piaghe. Allora se noi trasportiamo questa emozione che indubbiamente in televisione, chiamiamo assassino Beppino Inglaro che per me è un eroe civile. Se spettacolarizziamo, se creiamo i fans, gli ultra delle due curve, secondo me non approfondiamo nulla e soprattutto non facciamo nulla affinché il dibattito in Italia e nel nostro paese cresca di qualità più che di quantità. Nei giorni in cui si è vissuto quello che possiamo chiaramente definire come un dramma collettivo, l'Irpinia ha avuto grande ribalta soprattutto per la storia di questa ragazzina di Montoro Inferiore. Ci sono stati degli accorati, quasi disperati appelli dei genitori rispetto al quanto avveniva invece per Eloane Inglaro. Posizioni completamente diverse, abbiamo però conosciuto anche la storia di Adriano Lombardi che è recentemente scomparso e che invocava ad una attuazione dei protocolli sulla ricerca, ad evitare di mettere filtri e soprattutto regole alla ricerca. Sì, sono storie indubbiamente diverse, io non conosco nel dettaglio la storia della ragazza di Montoro, so che lì la famiglia ha fatto una scelta, una scelta che io posso non condividere, condividere è un problema mio, ha fatto una scelta e giustamente viene aiutata dallo Stato, dalle ASRA ad attuare questa scelta. Il papà di Eloane, rispettando delle posizioni che Eloane aveva più volte espresso in vita, ha invece fatto una scelta diversa. La storia di Adriano poi è la storia di un uomo che ha combattuto affinché quelle speranze, perché dalle cellule staminali noi non siamo certi si potrà trarre la risoluzione di tutti i mali, della slide di altre malattie, però Adriano ha combattuto affinché la ricerca potesse andare avanti, potesse dare ancora speranza a chi come lui lentamente vedeva spegnersi il suo corpo. Allora, quello che io intendo sostenere, che spesso nelle discussioni anche con gli amici o con altri si fanno, è che ognuno di noi, ogni individuo, ogni famiglia, se vogliamo allargare un po' lo spettro, deve essere lasciata libera di scegliere. Io non sono di proprietà dello Stato, quando mi si dice la vita non è un bene disponibile, chi lo dice? Per me la vita è mia, io sono proprietario del mio corpo e della mia vita, se io scelgo di non essere idratato e di non essere alimentato in caso di incidente, devo essere libero di poterlo fare, così come il dottor Piccariello deve essere libero nel caso in cui volesse essere curato fino all'estremo di lasciare scritto che questa cosa deve avvenire. Ma diventa urgente legiferare sul testamento biologico, insomma avere una forma di riconoscimento prima ancora che accada l'irreparabile, non ci sia più quello stato di coscienza come per Eluana Inglaro o come per Annalita Giliberti che dia la possibilità di scegliere in maniera diretta da parte del soggetto. Guardi, a questo punto forse adesso è necessaria una regolamentazione, senza epocrisia diciamo questo. L'eutanasia in Italia esiste, esiste da sempre, esiste in maniera illegale e non normata. Quanti di noi sanno, nella propria famiglia hanno avuto casi o sanno di amici vicini che a un certo punto i medici hanno detto portatelo a casa oppure si è fatto ricorso alla pietà di un infermiere, magari una pietà accompagnata da 100 mila lire o da 100 euro, affinché, dottore, non lo faccia soffrire, affinché questa persona finisse in maniera dignitosa la sua esistenza. L'eutanasia come ogni fatto illegale, come ogni fatto non normato può portare a degli squilibri, può portare a delle cose davvero ingiuste e immorali. Così come era per l'aborto. L'aborto quando era illegale in Italia, le nostre nonne se le ricordano le mammane, quando era illegale portava morti e ingiustizie in numero di gran lunga maggiore di quando poi l'aborto è stato regolamentato e legalizzato. Noi non vogliamo la legalizzazione dell'eutanasia per tutti, noi vogliamo che chi è chiamato a scegliere, noi in prima persona, i nostri familiari, siano liberi di scegliere, rispettando la volontà e la fede religiosa di chiunque. Ecco c'è la possibilità di avere un punto di contatto, di aprire un dialogo tra laici e cattolici, tra credenti e non credenti su queste tematiche, insomma anche la Chiesa pare riconosca la questione relativa all'accanimento terapeutico, si è espressa contro l'accanimento terapeutico, però il punto rimane, idratazione e alimentazione sono da considerarsi cure o no? Guardi io non sono un medico, la scienza su questa è divisa, c'è un dibattito in corso, ci sono dei protocolli che nel caso di Eruana hanno detto, hanno sancito che in quel caso, in quella particolare situazione, idratazione e alimentazione erano accanimento terapeutico, allora proceda il dibattito scientifico senza che questo sia influenzato da fondamentalismi religiosi. Io so che il senatore Ignazio Marino, che non è un estremista di sinistra e nemmeno un laicista incallito, è un cattolico, che sta portando in anzi una battaglia che per me è una battaglia di civiltà, così come tanti altri esponenti del centro-destra, finalmente quella caserma un po' dopo che il caso di Eruana ha lasciato le prime pagine giornali, quella caserma ha aperto almeno porte e finestre, quindi anche nel centro-destra ci sono delle posizioni di cattolici e di laici che dicono discutiamone. Io temo che il fondamentalismo religioso, da qualunque parte venga, sia assolutamente negativo per questo dibattito, cioè se noi, ritorno alla metafora degli ultra, se ci andiamo a scontrare laici contro i cattolici, cattolici contro i laicisti, eccetera, noi non facciamo bene al dibattito e non facciamo bene al paese. Bisogna partire sempre dal punto di vista dell'altro, cioè l'altro deve essere libero di esprimere la sua opinione fino all'ultimo, questo è il punto che per me connota uno Stato di diritto, altrimenti siamo in uno Stato fondamentalista, vogliamo dire talebano, diciamo talebano, i talebani impongono la loro morale, la loro etica a tutti e chi non segue quelle linee dettate dai capi talebani può essere pulito con la morte o con la galera.